in diretta da Sanremo con noi Noemi ciao Noemi ciao come va bene grazie tu bene benissimo soddisfatta dell'esibizione di ieri sera assolutamente sì soddisfatta della scelta di bagnati dal sole era quella che avresti voluto guarda visto che oggi siamo bagnati dal sole sì ecco le canzoni questa volta hai voluto scriverle da sola dopo aver collaborato con grandi autori per anni perché questa scelta ma no in realtà è una scelta molto coraggiosa perché mi rendo perfettamente conto che il confronto con Vasco è abbastanza duro però io devo dire la verità sono ho fatto questa scelta perché mi piaceva a parte che molte persone mi dicevano ma tu scrivi bene perché non provi allora ho preso al balzo al volo questa occasione sono andata a Londra però e ho collaborato anche con autori molto bravi inglesi e sono sono contenta del risultato perché questo questi due pezzi sono l'inizio del mio album però devo dire che all'interno dell'album ci sono anche altre canzoni che forse anche più avanti vi farà piacere ascoltare scritte da me non abbiamo dubbi la tua esperienza londinese come la riassumeresti è veramente super creativa perché lo spirito di Londra è fantastico loro hanno questa questa non hanno paura di vivere no quindi mi ha contagiato questa cosa di fare di provare di scrivere di fare anche cose abbastanza diverse infatti avete visto ieri sul palco era un po mi sentivo un po' un extraterrestre però però è bello perché in realtà questo mestiere non è solo canzone ma c'è anche la dimensione dello show e mi piaceva far per quei due minuti sul palco far sognare le persone che mi guardavano sono stata contenta della reazione del pubblico è stata bellissima anzi li volevo ringraziare si hai sorpreso un po' tutti con un look molto originale quanto c'è di tuo nella scelta di quegli abiti è ma c'è tutto di mio me li metto io sono gli stylist magari io ho una stylist molto brava che mi aiuta e che è fighissima e come me non è una persona paurosa anzi mi piace usare coraggio ma sì dai di che parliamo ci rompiamo le scatole senti venerdì giornata di duetti tu hai fatto una scelta anche in questo caso un po' particolare eh sì perché sarò diciamo che il mio duetto è con la canzone no la costruzione di un amore che è un pezzo pesantissimo e siccome non sono io sono molto per i prodotti biologici ossia se nasce un duetto deve nascere in maniera spontanea come per esempio è nato con fiorella mannoia no che quando ero all'inizissimo mi sento all'inizio anche adesso però prima era proprio super inizio ha puntato su di me ed era gli piaceva la mia voce poi gli piaceva il pezzo ha voluto duettare con me siccome questa situazione non si è creata e secondo me l'universo ci manda sempre dei messaggi allora ho preso parlato con la mia discografia ho detto ragazzi ma facciamo una cosa facciamo che il duetto è col pezzo e infatti sarò sola sul palco però è stata una forzatura dici se no ma sì dai perché io credo nella chimica e soprattutto la musica no è fatta di vibrazione è fatta di e perché uno deve creare per forza una cosa due quando non c'è come per forza voler mettere insieme due persone non si amano se non si amano magari sarebbero perfetti insieme ma se non si amano manca qualcosa senti quanto è importante la vittoria al festival di san remo per noemi ma guarda relativamente importante perché beh certo è inutile dirti che sarebbe bellissimo vincere ma io credo che l'importante l'importante è portare il proprio progetto le proprie vibrazioni su questo palco io ieri credo di esserci riuscita e per me la reazione della platea di san remo è stata la più grande vittoria che ci potesse essere mi sembrava adesso un concerto mio bello non sono mai stata così leggera sul palco di san remo non mi è mai successo in bocca al lupo noemi grazie crepi il lupo ciao